mi avrebbe lasciato se non fosse nato nostro figlio e l'ultima infine la faccio fare alla mia amica Isabella dov'è? questo è il mio papà e il mio papà visto che sono periodi un po' bui parliamo di ridere sono dei meme ma vi vedo tutti con la faccia seria non fa ridere nessuno ditemi qual è il vostro preferito tra questi cinque allora ha ragione anche la seconda è la mia mamma la seconda è la tua mamma ma anche la mia ci vediamo domani ciao 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 a tutti ciao 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 ciao